Salve a tutti ragazzi di guerraestellare.net oggi andremo a fare un super unboxing dell'ultimo gioco dedicato al mondo di Star Wars targato del Trenic Arts nello specifico JD Survivor quindi passiamo subito all'unboxing nello specifico io ho preso la versione della Deluxe Edition quindi quella del costo di 100€ l'ho prontata da GameStop GameStop mi ha detto te la possiamo inviare solo online perché eccolo qua Deluxe Edition su internet devo dire che c'era la banda arancione che era più brutta ma così secondo me è molto meglio si ero un poco scioccato dal fatto che mi sembrava la versione normale però come dicevo l'ho presa da GameStop preordinata a 100€ e per email mi hanno mandato il codice preordine e nella Deluxe Edition rispetto alla versione base abbiamo due pacchetti estetici aggiuntivi quello tutto dedicato a Han Solo e il secondo quello dedicato a Luke Skywalker mentre il codice preordine ci da quello tutto dedicato a Kenobi quindi niente adesso lo spacchettiamo eccolo qua a me piace spacchettarli in quella maniera e niente allora ovviamente questo è il secondo titolo sempre prodotto dal Respawn Entertainment e quindi continua non subito dopo le vicende di Jedi Fallen Order ma un po' più avanti quindi temporalmente è un po' avanti con la trama ma stiamo parlando del secondo titolo quindi Jedi Survivor nel mio specifico caso Deluxe Edition valore 100€ commerciale attualmente mentre la versione base è 80€ ora passiamo al aprire andiamo qui ok un attimino verifico se c'è qualche codice esattamente qua abbiamo il disco carino pensavo qualcos'altro ma invece al solito non ci mettono altro che un fogliettino questo qui esatto con le istruzioni e dall'altro lato il codice che io provo un attimino a coprirvi così da essere più pratici eccolo qua abbiamo il pacchetto testati con l'errore galo attivo con la riferita a Han Solo e invece il pacchetto estetico nuove eroe riferito a Luke quindi con le skin sia per Calcestis sia per DB1 e le armi quindi questo è per quanto riguarda i pacchetti aggiuntivi della Deluxe Edition mentre il preordine che poi vi mostrerò in sovraimpressione qui riguarda invece il bonus preordine che si può avere con tutti le varie versioni prenotate tranne la Collector Edition che quella si può trovare solo esclusivamente in America che era limitata non so se era 1000 copie o 2000 copie ma correggetemi se sbaglio forse mi arriva ecco una notizia che è 1500 copie quindi questo è per quanto riguarda la Collector Edition che ormai ovviamente era tutto esaurito poi un'altra cosa che sicuramente non mi devo dimenticare è ecco che chi compra la versione base può avere anche la possibilità di fare l'upgrade come sempre mostrato qui in sovraimpressione spendendo 20€ dallo store stesso della Playstation può costare l'upgrade quindi i pacchetti DLC aggiuntivi li può avere anche chi ha preso ovviamente la versione base e basta nient'altro ecco il gioco pesa la bellezza di 147GB sempre in sovraimpressione trovate tutto quello che è per le informazioni e niente ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarci e seguirci in futuro vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao